benvenuti su priva car di san cesario fiat freemont novembre 2012 motore 2140 cavalli con solo 148 mila chilometri andiamo a scoprire bene cosa possiamo dire di quest'auto il suo secondo proprietario che l'acquistata nel 2015 a 75 mila chilometri circa 6 mila chilometri fa ha provveduto a rifare la distribuzione nuova con tagliando nuovo e anche la frizione nuova degna di nota anche quattro pneumatici che hanno percorso anche questi pochissimi chilometri sono quattro stagioni iniziamo bene ascoltiamo adesso il motore e poi esaminiamo anche gli scarichi bene per quest'auto è tutto l'unica cosa che abbiamo da segnalare qualche piccola strusciatura sui paraulti ma nulla di grave con lo nostro spessimetro digitale l'auto risulta tutta originale quindi non è entrata mai in carrozzeria se volete avere ulteriori dettagli e anche scoprire il prezzo di questa vettura vi invitiamo a visitare la nostra pagina a contattarci oppure a cliccare il link sotto la descrizione ciao e grazie